Tezze sul Brenta viaggia verso un futuro sempre più green a passo spedito, anzi pedalando in sella alle nuove e-bike messe a disposizione dall'amministrazione per gli spostamenti dei dipendenti comunali. Le e-bike infatti sono arrivate come una nuova progettualità per i dipendenti comunali perché avranno la funzione di essere utilizzate a discapito delle automobili per le funzioni esterne dei dipendenti comunali. Non solo, il comune ha anche nominato un mobility manager con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il progetto andando a coprire ad esempio anche gli spostamenti casa lavoro dei dipendenti. L'amministrazione di Tezze ha voluto comunque dare la figura del mobility manager perché è votata da molti anni a questa parte a promuovere l'ambiente. Bici con lo sviluppo anche delle piste ciclabili ma anche auto elettriche per un comune sempre più vicino alle tematiche del contrasto all'inquinamento. Abbiamo acquistato due auto elettriche, una a servizio dei vigili e una per gli uffici comunali. E sulle e-bike è pronto a salire anche il sindaco. Cercherò di fare il possibile, magari previo allenamento e chissà mai che riusciamo a vederlo. Grazie. 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 Grazie.